Sono una naturopata, mi occupo di alimentazione e in realtà io predico bene e razzolo ancora meglio, nel senso che sono molto rigorosa e ho sperimentato diversi tipi di alimentazione con delle esperienze anche interessanti. Per esempio c'è stato un periodo in cui mangiavo crudismo e quello è stato un periodo in cui ero contentissima, felicissima, come se tutte le mie cellule fossero estremamente contente, un'esperienza particolare. Poi c'è stato un periodo in cui ho fatto un digiuno molto lungo e prendevo solo centrifugati di verdura e quello è stato il periodo in cui avevo più energia in assoluto, molto energetica, proprio dalla mattina alla sera. Poi c'è stato un periodo in cui ho fatto un'alimentazione proteica, quindi low carb, senza carboidrati e in quell'occasione mi è venuta per la prima volta nella vita la voglia di bere il caffè che io non bevo. E adesso sto facendo un'alimentazione senza zuccheri perché sto usando il cerotto SP6 del LifeWay che si mette vicino alla caviglia, toglie la voglia di zuccheri e mi è venuta voglia di tè, di tè al limone. Questa è un'esperienza particolare.